buongiorno questa è il prototipo della stufetta bucce d'aranci per latte tonno pomodoro e fagioli tonno dentro quella del pomodoro pomodoro quella dentro dei fagioli argilla vaso di coccia e altro vaso di coccia altra argilla e stagnola stagnola superflua si può fare tranquillamente con l'argilla e poi importante gli stoppini fare dell'emiccente nella tale che poi poco lo possiamo attivare e devo dire che mi sa davvero proteggendo buongiorno grazie a tutti Grazie a tutti.